Ciao a tutti tutoretti e benvenuti in questo nuovissimo video Primo tutorial No, in teoria secondo perché il primo era quello sul multiplayer Oggi siamo qui per l'installazione delle mod Più che altro lo scaricamento e poi varie cose al riguardo Allora, vi ho già preparato dei siti che utilizzo principalmente Il più conosciuto e utilizzato è Mod Oster Che avete mod dall'11 al 13, al 15, al 17, al 19 Al 19 sono uscite poco, sinceramente non è che ci sia chissà quanto di interessante Andiamo ad esempio qua, vi dico un po' come funziona Qua vi dà le mod scaricate, più scaricate nella giornata Vedete 1500, 1200, 1200 1200, 1200 praticamente e 1000 Oppure andate qua a Mod Categorie e fate Rimorchi Avete semi rimorchio, ok Però qua il problema che forse vi dà anche del... Ah no, è tutto dal 19, ok Sì, tipo qua abbiamo preso il rimorchio normale Ve l'ha modificato a 150.000 litri È un po' illegale come cosa però Cioè non è illegale modificarlo però Questi qua invece sono molto interessanti I carichi, cioè i rimorchi molto amplificati Cioè più grandi Comunque anche qua trovate bovini raccolti Sarebbe Cattle and Crops Trovate modi Cattle and Crops Vi faccio solo vedere Ecco ad esempio c'è questo qua Che cos'è? Anna Burger è quello che c'è anche in farming Se non mi sbaglio Qua Rimorchi per le balle Sì, hanno aggiunto qualcosina in più però Presso che sono sempre le solite cose Comunque andate su Mod Oster E ad esempio prendiamo questo qua 440 Series Allora io ogni tanto quando salgo Faccio una cosa del tipo Guardo qua Vabbè le versioni quasi mai Alla fine Vado su Immagini Gli do un po' un'occhiata Infatti diamo un'inocchiata Sembra fatto bene Non è male Anche come dettagli Cioè non è Non essendo default Essendo una nuova tipologia Cioè Essendo farming proprio nuovo È fatto bene Direi Che gli interni Video non ce ne sono Sono ogni tanto andato a guardare qualche video Crediti è di Jekyll E Gigantil Non pesa neanche tanto Proviamo a scaricarlo Allora qua Vi da una specifica È identico appunto Questo qua è il Ford È identico Al New Holland Che c'era nel 17 E appunto È stata modificata Penso soltanto Alla scritta Qualche texture E ci sono le varie configurazioni Di motori Ok ok E voi andate qua Avete questi due Allora Andiamo su scarica Di solito io faccio questo Mod Oster Però in teoria vi renderizzo Su un'altra pagina Ah no Qua ve lo scarica subito Sarebbe più giusto Per il rispetto del mod Andare qua Infatti ogni tanto Lo faccio Però Vi lascia scaricare una mod Ogni tot Tempo E dovete aver cambiato i DNS Altrimenti non ve la scarica Se vi faccio vedere Uploaded E c'è È comodo È tutto Però vedete Essendo la versione gratuita E non premium Avete download Simultanei No Ah potete scaricarne Una mod Ogni 180 minuti Quindi ogni 3 ore 6, 12, 18 Sì Ogni 3 ore Quindi è piuttosto lento E anche il download È molto molto lento Non so quanto costi Download premium Vediamo un po' No Scommesse sportive Non mi interessa Ah pubblicità a caso Ah ok Sì Non lo farei mai Io Un account premium Su queste cose Alla fine Se non Lo scarico Da qua Da questo Vado sull'altro Ovviamente Date un contributo In più al modder Questo qua È il sito Diciamo In cui ci sono Molte modder Un altro sito buono In cui ci sono Abbastanza modder Anzi no Prima di andare sul sito ufficiale È questo qua Modoster Scusate Modab Eccolo qua Questo qui Dovete stare attenti I crediti Perché magari Ci sono modder Private Cioè Pubblicate a caso Vi dico già Di stare attenti Adesso se ce lo apre Ecco Vedete Lo stratman Ad esempio C'è Qua ci sono anche Mod di Eurotrack Quindi vi consiglio Come avevo già detto Nello scorso video Su 17 Andare su Farming simulator 19 E all modification E vi fa vedere Tutte le mod Di farming Tipo questo qua Un ripuntatore piccolino I balloni tondi Vabbè Trince e ceppi Ok Poi andiamo avanti La mappa del Kansas Ci sono un sacco di cose Ad esempio Ho visto che è uscito Tipo un Dov'è che è Adar Nensu altro Una sorta di Script Interessante No Convert mode Eh Come Vi permette Di convertirle Sarebbe veramente Comodissimo 20 minuti Ecco Una mode Molto interessante Se qua Proverò un attimo A guardarla Dalla grafica Poi questo qua Per il save game editor Se volete Vi posso fare un tutorial Anche su questo E Va bene Comunque Io volevo Far vedere questa La vehicle Fruit Ad E' molto interessante Perché Questa mode Per esempio Vi permette Di Andiamo a vedere le immagini Vi permette Di vedere qua sotto Le percentuali I litri che avete La percentuale E il nome Perché non si capisce bene Dal simbolo Andiamo avanti Vedete qua Varia Adesso è molto piccolo Si capisce poco Ah Ecco 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 Potete impostare Il simbolino Del trattore Spostarlo in basso E questa è una gran figata Almeno sembrerebbe così Qui non c'è Ancora in alto Però qua lo vedete Proprio sopra Quindi è molto comodo E dove Name Pose 3 Ok Potete cambiare anche il colore Con R G E B Red Green And Blue Allora Devo capire un attimo Come si attiva And 3 Allora 1 Vabbè Proveremo dopo In qualche maniera E andando avanti Ok Vabbè Ci dice qua tutto Ok Vabbè Comunque se volete guardarvi un video E i crediti Di chi l'ha fatta Happy Loser E andiamo quindi qua Su Download Qua è diretto Immediato Infatti vedrete Vi comparirà subito Qua sotto Ecco Già scaricato Ci vuole poco niente E anche ci siamo Questa qua Aspettate No è una mappa Del Ah già Uscita una mappa No Scusate Non voglio scaricarla Ok Non me la scarica subito È una mappa Del Texas Credo Ci starebbe Fare una serie Su una mappa Del genere Piuttosto che Sull'altra mappa In multiplayer Magari prima sull'altra Poi passare su un'altra Sembra interessante Eh qua Vi ha caricato Soltanto queste Andate su More E vi fa vedere Altre immagini Eh qua ci sta Sì Con tutti i mezzi Che abbiamo Perché Legend Ebbene dire Eccola È immensa Questa mappa Vabbè Comunque Torniamo indietro E L'altro Ecco Il sito ufficiale Questo qua Farmysimulator Punto com Allora Dovete andare Su La Categoria DLC Se volete Comprarvi Indio DLC E ho visto Che è uscito Questo 2,99 Vedrò Però non penso Di comprarmelo Dato che ho già Il Mahindra Non me ne faccio Nulla Magari per il canale Se vi va Lo potrei portare Voi andate Su categoria Mod E andate Vi compaiono Tutte le mod Che sono uscite Per ora Sono uscite Tutte quelle Rilasciate Dalla Giants Vedete Posizionabili Questi qua Sono prefabbricati Ad esempio Per i modder Credo E Che volevo I suoni Le icone E quant'altro Poi qui abbiamo I mezzi Vecchi Dello scorso farming Che non hanno messo Di default Come è successo Nel 17 Con ad esempio Litty Runner Che mi pare Non ci fosse più Di default Cioè era un DLC Non era più di default Allora l'hanno messo Subito L'hanno pubblicato All'uscita Magari per non rendere Il gioco troppo pesante O magari perché Non avevo neanche i permessi Non lo so Comunque abbiamo Ad esempio Il Fliegel Il New Holland Di prima Che prima era un Ford Cioè E' sempre stato Un New Holland Però è stato trasformato In un Ford A un modder E la Kun La JCB JCB che No c'era di default Mi pare Era uscita nel 15 La DLC La DLC E tutte queste varie cose Tra cui La Stanza La Pasha Che è la mappa Comunque vedete Qua c'è il download 997 4.2 La valutazione Questi qua Vedete Non li ha scaricati Quasi nessuno Perché sono soltanto Per i modder Io mi voglio scaricare Questa seminatrice qua Della Kun Da 12 file Ah costa 54.000 euro Vedete qua è fatto bene Proprio dalla Giants 54.000 euro E larga 5.4 metri Autore Software Giants Peso del file 11 mega E poco più E qua vi dice Piattaforma PC Mac PS4 Xbox One Allora Vi dico una cosa Dato che ho saltato fuori Questa cosa qua Se no non me ne ricordavo Nemmeno più Le mod Che trovate Su Moddoster E Modab Sono soltanto Per PC Tenete ben presente Quel che ho detto Solo per PC Le mod invece Sul sito ufficiale Dipende Vi uscirà qua Per che dispositivo Si possono utilizzare In questo caso Quelle rilasciate Dalla Giants Sono per tutto Perché Se no Quelli che sono su console Non potranno mai usare niente Perché I modder Cioè Non dico raramente Però Fate un 30% Dei modder Fa mod Anche per console O forse anche meno Un 10-20% Quindi è un po' Un casino Per chi è su console Però è già tanta roba Perché Le mod Su console In qualsiasi gioco Non ci sono mai state A parte Su FS17 Che è iniziata Così Qui possiamo spostarci Nell'immagine Non sembra male Allora voi Se volete Potete anche votarla Però io direi Di provarmela prima Andiamo su scarica E vi reindirizza Subito qua Questo qua Che alla fine È il sito ufficiale E modab Vi reindirizza subito qua Mentre modostra Ecco Dovete starli un po' Ingegnarvi Entrare Nelle pagine Tutto quanto Adesso poi sto guardando PS4 Xbox One Ecco Ho fatto la categoria E qua sono le mod Che avete per PS4 Xbox One Mentre Vabbè più recente Vi fa vedere tutto Tutto quanto Allora Una cosa che volevo dirvi Ecco Io ho il gioco da Steam Quindi mi viene aggiornato Automaticamente Se voi avete comprato Il gioco ad esempio Dal sito ufficiale Tipo Da qua Avete comprato Aspettate C'erano anche i requisiti Minimi Che non ho mai guardato Però si Me li regge il PC Se l'avete acquistato da qua Voi dovete andare Su aggiornamenti Quando escono le nuove patch E andare Io l'ho scaricato Ma sono stato stupido Perché io venderlo su Steam Non mi interessa Andare su Questo qua Ecco Allora non so se va Se andando Ah qui ecco Vi dice tutte le cose Risolte Risolto blocco Raro Durante la creazione Di una fattoria In multiplayer Vabbè È traduzione automatica Quindi è scritto malissimo E tra l'altro Mi è saltato subito all'occhio Risolto i problemi Con le ruote Di ritorno Dalla forza Del Logitech Per le periferiche Ad esempio Il G29 Il G9 E 20 Il G25 Il G27 Tra l'altro Ero quasi tentato In questi giorni C'è Nel Black Friday Di comprarmi Un volante Però Ho detto Più avanti Lo prenderò Ora ho altre cose A cui pensare Comunque sarebbe Molto carino Da utilizzare Voi andate qua Su scaricare E mi pare Che ve lo scarichi Subito Esatto Poi dopo Andrete avanti Eseguirete E ecco Per scaricare Per usare le ultime mod Dovete avere sempre Il gioco aggiornato Quindi se non è aggiornato Il gioco Non potete usare le mod Me lo avete sempre chiesto In tanti E' così che funziona Poi ecco Adesso andiamo Al passaggio successivo Ovvero Passare le mod C'è da qua Al pc Tra l'altro Qua deve uscire Qua pure Ok Teniamolo così A me se no Facciamo una cosa Di questo tipo Senza chiudere Ci sono tutte e tre No Ok Qua ci sono tutte e tre Allora Le mod Dovete andare Dovete spostarle In una cartella apposita Qui sto registrando Sì tutto ok Tutto ok Allora Praticamente Qua vedete Vehicle Fruit Ad Punto zip Punto zip Va bene E' il programma Che utilizzo io Che ho già installato Sul pc Che sarebbe una sorta di No zip Scusate Winrar Io avevo 7zip Che dovrebbe essere Sì La stessa cosa Praticamente Soltanto che L'estensione E' sempre quella Alla fine Ha la stessa funzionalità E' un programma Che trovate su google Faccio vedere Dovete averlo Sennò non potete Passare le mod Winrar Dovrebbe esserci Una prova gratuita Altrimenti Va comprato Però La maggior parte Usa la prova gratuita E lo riesce Usare lo stesso Ecco Poche parole Prova lavoro Vedete Di gestione archivi Perché questi qua Sono degli archivi Allora Tornando Stiamo qua Noi dobbiamo Spostare questi Download Nel nostro gioco Quindi andiamo Sul nostro pc Andiamo nella cartella Documenti Che vabbè Voi partite magari da qua Questo pc Andate su documenti Qua un sacco di cartelle Andate in My games Qua vedete Ho tutti i farming Poi anche Cattle and crops E altri giochi Andate su Farming Signature 2019 Abbiamo queste cartelle E qua altri file Questi qua sono i file di gioco Cioè Si e no Perché è una cosa Diversa Abbiamo i Pdl Dlc Music Mod Dovrebbe esserci anche DLC Però non lo vedo Di solito c'era Musica Per la radio Una cosa del genere Mi pare Adesso non ricordo Perché non lo uso mai Abbiamo screenshot Per tutte le screenshot Che abbiamo fatto Ne ho fatte già un sacco A volte ne faccio di più Vabbè E noi dobbiamo andare su Mod Allora qui ho già la Player camera Fatta sempre Dallo stesso tizio Mi sa Vabbè Non lo so Comunque voi prendete Ad esempio Lacoon La trascinate qua Vehicle Fruit Lo trascinate qua E Ford Lo trascinate qua Allora Se vedete .zip Vuol dire che sono Degli file di archivo Se sono .rar Vuol dire che sono Degli archivi Contenenti Più cartelle Quindi dovete Aprirli Estrarre le varie Cartelle che hanno E spostarle Quindi è un po' più Complicata come cosa Però non è nulla di che Adesso l'ho spiegata Anche velocemente Comunque Non è complicatissima Abbiamo quindi qua I nostri file Poi potete Non cambiatevi il nome Se no non ve li legge in gioco Ecco Cosa importante Perché io Ai tempi avevo provato E non me ne sono più ritrovate In gioco E ora andiamo ad aprire Farm Simulator 2019 Si sto Sto andando un po' per le lunghe Questo tutorial Però ci tengo proprio a precisare Un po' come Come fare Ecco Adesso ci apre il gioco Ok focus Siamo entrati In game Si skippa tutto questo E eccoci qua Una cosa ecco Che vi devo dire Già che ci sono Vabbè questo è il nostro Classico menu E vedete che c'è Carriera multiplayer Tutorial E mod Se siete da console Per scaricarvele Voi Non andate proprio Sul sito ufficiale Voi venite qua Mod E avete qua le varie mod Per pc Ecco avrete più mod Quelle Cioè tutte le mod Saranno per pc Compatibili per pc Window Per mac forse Non per tutti Però Da console Avrete soltanto Le varie mod Che vi Rilasciano I modder Scusate Ho fatto un giro di parole Assurdo Comunque Da console Troverete soltanto Le mod per console Ovviamente Quindi sarà molto meno Ad esempio Queste qua Tutte Vedete già In software Avete pure la valutazione E tutti i contenuti Generati dagli utenti Sul mod Hub Sono le proprietà Rispettive Creatori Non serve In alcun modo Responsabile Di contenuti Generati dagli utenti O da eventuali danni Che potrebbero causare La partita Quindi ecco Certe mod Magari Non sono Ben settate Vi fanno crashare Il gioco O vi eliminano Qualche file Da stare attenti Abbiamo raccoglitrici Palle gommate Ecco vi faccio vedere Che me ne scarico Una Di mod Questa qui Quella che abbiamo Infatti vedete Installata Mentre se andiamo qua Queste qui Non sono installate Direi di andare A prendermi Un trattore piccolo Questo qua All toys Vabbè comunque Potete andare qua E vedere Le specifiche Quasi quasi Andrei su questo Aggiungendo la lista Di contenuti A scaricare Ok Torniamo indietro E Vabbè qua sopra Potete Andare a vedere Le mod Che abbiamo installato Che sono quelle Tre di prima La player camera Non è funzionante Perché non me la da Infatti Bocca È sbagliato qualcosa Secondo me Nessuno mod Disponibile da aggiornare Qua in download Adesso Vabbè lo stoppo Disinstalla Sì Però adesso non mi interessa Perché dopo Dovevo uscire dal gioco E rientrare Idlc Qua vi farò vedere Tutte le mod Che Ci sono dal mod hub Ci sono ancora Le migliori I più scaricati E I più recenti E magari Ah Cerca Perfetto Tipo No vabbè Fiat non ce ne sono Case Vi da Escon le che Questa qui è una gran figata Non l'ho scoperta adesso Mostra tutte le mod Mostra solo le migliori mod Allora Non ho capito sta cosa Vabbè Torniamo indietro Qui si è un Ok Il fligal Che Peccato che non ci Non ci sia sul gioco E' un casino Perché sono tutti uguali Sti tasti Non si capisce mai Ok Adesso ci ha fatto uscire Ma è normale Mi capita sempre Anche ogni volta che esco Da una partita Mi fa uscire Adesso andiamo qua Su carriera Facciamo un nuovo salvataggio Nuovo agricoltore Oppure no Andiamo con questa Dai Su quella Sulla mappa americana E ci prendiamo Tutte le mod Per entrare Ecco Vabbè Qua è una maindra Che Boh è sempre lì Non ho manco Non ho ancora capito Come mai Comunque Voi selezionate qua Sul quadratino Doppio clic E vi attiva la mod Se no fate De seleziona tutto E selezionate tutto Se non la volete De selezionate Se la volete Selezionatela E abbiamo Questo qua Dal mod hub Cioè scusate Questo dal mod hub Scusate Questo dal mod hub Questo dal sito ufficiale Questo dal mod hoster Adesso iniziamo E andiamo un attimo A vedere in partita Come Se arrivano seriamente Le mod Oppure no Ok Siamo entrati in gioco Dopo un attimo Perché Ci ha messo davvero un po' E siamo qua Nella nostra farm Allora Direi quasi quasi Eh si Ci teletrasportiamo Allo shop Ma prima Devo far vedere Una cosa Ovvero Saliamo su un trattore Vabbè qua è il salvataggio Del Multiplayer Però Ah no c'è già l'attaccato Il fiat Niente Però è molto indietro C'è pure il maindra Ah ok Non me ne ero mai reso conto Il treno A doppia corsia Va bene Comunque Come vedete qua c'è sotto un 8000 In basso a destra Non mi sbaglio Con i tasti Del mouse Aspettate Non mi ricordo Come funziona Sta mod Perché non l'avevo usata bene C'è il segnale Del trattore Che dovrebbe Andare in basso a sinistra Cioè scusate In basso a destra Non so se era magari Con control O alt No Vabbè comunque L'importante è che Vediate un po' come è sta mod Premendo R Voi scaricate il frumento Adesso vedrete Frumento Ah è tradotto pure in italiano Quindi ottimo Così così La tengo anche sulla serie Questa mod Perché è comoda Perché c'è la fine Vedete Le culture Ah no Qui magari si distingue Qui sono pressoché uguali Quindi potreste fare confusione E io voglio capire un attimo Come spostare giù Il simbolo del trattore In alto a destra Allora Il bello è che ho dato Un'occhiata un po' prima Ma non si capiva Forse con l'uguale No La 9 nemmeno Le mandiamo anche il tempo Pop Radio Jeff Dale Lucky number Ok Non è quello Ovviamente io quando Una cosa così non funziona Metto A premere tutti i tasti Deve essere Vabbè comunque Avete capito Ecco Da quel che ho capito Si può spostare Però In questo caso Non ci lascia Ma arriva fatta Allora Quanto tanto scarichiamo Magari va fatta Ad esempio Su un altro trattore Che è fermo Eh boh Sarà una combinazione Di tasti Un po' come la follow me Che alla fine Mi fa sempre incasinare Comunque Noi ci dirigiamo Allo shop Perché Sono qui per farvi vedere Come si scarica le mod Adesso vi faccio vedere Un attimo Le mod Come sono Allora Qui abbiamo Il nostro Mahindra Tra l'altro 30 minuti di video Per un piccolo Tutorial Scusate la lunghezza Ma Scusate veramente Allora Le mod Ah si Come immaginavo Perché Sono le prime Che provo Ve le fa spawnare Qua Con i mezzi normali Ad esempio Ford 40R Series E potete Configurare Gli vabbè Il motore Ovviamente Abbiamo detto 75 75 95 125 Questo qua È già bello Configurazione ruote Pesi sul Zavorre posteriore Prenumatici larghi Larghi con zavorre Doppie Posteriori E quelli stretti E basta Ah Condivisa Sarebbero Vabbè Sarebbero Tipo quelli stradali Aggancio Caricatore frontale Ecco Non mi fa mai impazzire A me questo aggancio Però vabbè Soprattutto per la parte Qua davanti E siete a posto Vabbè Vi costa 93.000 euro Se no 90.000 Torniamo indietro E Avevamo scaricato Anche Cos'altro La seminatrice Seminatrice La trovate in Seminatrice Ovviamente In queste qua Dovrebbe essere Piantatrice Forse Perché E mais Quindi Semi Sono tipo Frumento Orso Colsa E Avena Mentre Piantatrici Sono tipo Girasoli No scusate Non frumento Girasoli Mais E Anche Soia Bietola E cotone Questi sono Quelli Default Le mod Le mod Le mod Le trovate Sempre In fondo La categoria Eccola qua La vostra Seminatrice Che alla fine Tutto sommato Non è male Perché Ve la potrete Anche Collegare Vabbè Forse qua No Con questa Dov'è Che è la Maschio Questo qua No Questo è un Kun Ero convinto Ci fosse la Maschio No Invece Della Kun Vabbè Mettete Questa Seminatrice Davanti E poi Dietro Vi collegate Direttamente Questa Ah è sempre Kun Ok Perfetto Ero convinto Fosse maschio Perché È molto Simile Comunque Una cosa Un po' Brutta Di questo È che Almeno Per ora Io non Ho ancora Visto Avete Ecco Le mod Ve le da Assieme Gli altri Mezzi Quindi Mettete Che vi Scaricate Un Trattore Che le Zavorre Dovete Andare Nelle Zavorre A cercarlo Ci starebbe Secondo me Una sorta Di Cos'è Che era Nel 15 Che c'era Per la categoria Mod Voi andavate Sui trattori Che prendevate La mod La mod Ecco E Avevate Tipo Un menu Così Però Un po' Meno Pieno Perché Adesso Ci sono Un sacco Di Trattori Forse Adesso Con Tutti Sti Trattori Ok Però Ci sta Di Più Una Sorta Di Menu Perché Adesso Andate Su Trattori Medi No Non Ci sono Perché Dovreste Andare A controllare In Tutti I Trattori Se C'è Magari Quello Che Avete Inserito E Un po' Un casino Se Invece Tipo Qua Facevano Mod Andavate Lì E Vi Comparia Tutta Questa Tabellone Con In Più Questi Ovviamente Soltanto Se Avevate La Mod Di Quello Vi Compariva Perché Se Non Avete Gli Erpici Potenti Gli Arrieggiatori Vabbè Erpici Rotanti E Ripuntatori Cosa Ve li Mettono A fare Ecco Non Ha Senso Comunque Ragazzi Io Spero Che Questo Video Vi Si Piaciuto Vabbè Vabbè Dai Ormai Non Lo Compro Ford Anzi Si Lo Compro Così Ve lo Faccio Vedere Se Siete Interessati Magari Lo Potrei Usare Se Lo Comprassi Magari Sarebbe Anche Giusto Non Abbastanza Soldi Vabbè Per 3000 Euro Comunque Spero Che Questo Tutorial Vi Si Piaciuto Fatemi Sapere Se Ne Vorrete Degli Altri Almeno Una Settimana Potrei Farcela Portarvelo Allora Oggi Deve uscire Ecco Un video Della serie Agricola Ma Ho Preferito Portarvi Questo Perché Sulla Sera Agricola Devo Portarmi Un sacco Avanti Comunque Nei prossimi Giorni Serie Agricola E Magari Un video Sull'agro Italia Se Riesco Un fine Settimana Fatemi Sapere Se Avete Altre Domande A Riguardo O Anche Non Riguardante Proprio Questa Cosa Delle Mod Altre Cose Riguardanti Farming Farming Simulator 19 Ovviamente Io vi saluto Vi ringrazio Noi ci vediamo Prossimamente Con un nuovissimo Video Ciao a tutti Doretti Ciao a tutti